Il Parago di Santena delle terre del Pianalto si differenzia dagli altri per il caratteristico sapore dolce che ha dovuto ai terreni sciolti e permeabili di questa areale. La produzione si ottiene su nove comuni e sono in ordine Cambiano, Carmagnola, Chieri, Isola Bella, Riva presso Chieri, Pralormo, Santena, Trofarello e Villa Stellone. Su questi comuni attualmente hanno aderito una cinquantina di aziende che seguono un particolare disciplinare dove per poter essere iscritti all'associazione bisogna dichiarare i fogli di mappa, i numeri di mappa su cui sono coltivati gli asparagi e praticamente si ha una certificazione della produzione. Il disciplinare vieta l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari durante il periodo di raccolta. Periodo di raccolta che va dalla metà di aprile alla metà di giugno. L'asparago di Santena delle terre del Pianalto designa i turioni che hanno le seguenti caratteristiche. Apice appuntito con bratte chiuse, colore verde intenso con sfumature violacee e una percentuale del colorato dal 50 al 70%. Secondo i metodi tradizionali l'impianto dell'asparagiaia veniva verso la metà del mese di marzo con le cosiddette zampe. C'è un classico detto popolare che le zampe dovevano sentire le campane perché vanno coperte con un leggerissimo strato di terra. Attualmente invece si è sostituito il trapianto delle zampe con i cubetti verso il mese di giugno-luglio per arrivare con un prodotto con meno malattie all'interno del campo.